Fervono i preparativi per la festa della famiglia, qual è il programma? Il programma è abbastanza semplice ma molto ricco, nel senso che abbiamo una messa fatta dai vescovi della metropolia di Fano, Pesaro e Urbino e sarà anche l'occasione per salutare il vescovo Trasarti da parte delle famiglie perché è una delle ultime messe che dice in diocesi e anche per Armando per salutare le famiglie a cui tiene tanto. Questa dove e a che ora sarà? Sarà alle 18.30 domenica 25 a località Treponti e poi a seguire ci sarà una cena al sacco perché non sappiamo quante persone verranno non è stato possibile organizzare la cena, ma dopo cena ci sarà lo spettacolo dell'attore Scifoni che fa uno spettacolo sui santi uno spettacolo spiritoso ma che fa anche riflettere, è un'occasione bella perché è uno spettacolo che le nostre diocesi offrono a tutti in maniera gratuita, altrimenti tante altre volte è a pagamento. Vi aspettiamo quindi tutti alla festa della famiglia interdiocesana, località Treponti e zona di Fano. Non mancate!